ciao a tutti benvenuti nel mio canale io sono Fetty visto che siamo nel periodo delle mimose ho pensato di preparare una torta che si chiama torta mimosa fatto di pan di spagna e di crema diplomatica ci servono alcuni minuti e semplici ingredienti per realizzare il nostro pan di spagna buono soffice e senza lievito durante il video vi svelo alcuni trucchi per la buona riuscita del dolce quindi seguite il video fino alla fine e adesso cominciamo subito a preparare questa torta deliziosa ciao a tutti Grazie a tutti. 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 Uniamo la crema pasticcera e la panna montata, dando vita così alla crema diplomatica. Ecco la crema diplomatica pronta per farcire la torta. Lasciamo il bordo della torta come si vede nel video di un centimetro e poi scaviamo e poi scaviamo un po' per creare proprio lo spazio per mettere poi dentro la crema. Grazie a tutti. Ecco qua la nostra torta. Ecco qua la nostra torta mimosa, semplice e facile da preparare. Che vedete? Che gusto avrà? Dai, corriamo ad assaggiarla! e ora assaggiando. E ora assaggiando. E ora assaggiamo. Buonissimo! Molto soffice, molto soffice, molto soffice, molto soffice, molto soffice, delicato, in poche parole delizioso, fatto a casa mia con passione. Ciao e alla prossima ricetta!